un inter che porta a casa un ottimo punto da manchester 0-0 contro il manchester city ottima partita dei nero azzurri almeno fino al settantesimo gli ultimi 20 più di sofferenza il city ha avuto la possibilità di passare in vantaggio l'inter però ha tenuto bene compatto e da squadra nei primi 70 lo dico subito l'inter ha avuto la possibilità di passare in vantaggio l'inter porta a casa un pari non di fortuna meritandolo questo pareggio è una cosa molto importante andiamo con le pagelle sommer 6 e mezzo la difesa benissimo 6 e mezzo per bisek 7 per acervi 7 per bastoni pavar entra e prende 6 e mezzo a centrocampo darmian 6 ha giocato meglio ma ha avuto quell'occasione che poteva sfruttare quindi gli diamo 6 carlos augusto 6 e mezzo e poi 6 e mezzo anche per cialano agli uscito ma solo per crampi poco prima della fine del match barella 7 e mezzo il migliore in campo per me zelinski 7 ottima la sua partita il suo debutto dal primo minuto con la maia nero azzurra davanti turam prende 6 taremi ottimi movimenti buone giocate 6 e mezzo partita increscendo per lui subentranti abbiamo detto 6 e anche per abbiamo detto 6 e mezzo per pavar abbiamo detto il 6 per frattesi che entra in finale 6 e mezzo anche per mkhitaryan 6 per dunfries insomma alla fine tutti e anche 6 per lautaro martinez che è entrato forse nel momento di maggior sofferenza dell'inter 7 per simone inzaghi l'inter porta a casa un punto importantissimo più che per la classifica che comunque conta per il morale perché deve dare autostima deve dare consapevolezza l'inter pareggia in casa del manchester city 0 a 0 ed è un gran bel risultato per la classifica che è un'intera di 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 un'intera di